Per il potere di Polescu, Polescu, Amén, Monterre! Sfido chiunque, nato all'inizio degli anni Ottanta, a non ricordarsi la mitica intro di Imen e i Dominatori dell'Universo, quella in cui il nostro Erculeo protagonista sollevava al cielo la sua mitica spada, colpita dai lampi, e si trasformava nell'uomo più potente dell'Universo. Io diventai Imen, l'uomo più forte dell'Universo! Salve a tutti, io sono Paolo Nardi, caporedattore della casa editrice Fede Cultura, e sono tornato per un momento bambino, appassionato di Imen e dei Dominatori dell'Universo, i Masters come si chiamavano in originale, grazie a un documentario che si trova su Netflix che si chiama appunto The Power of Grayskull, che era la frase che diceva Imen quando si trasformava la vera storia di Imen e dei Dominatori dell'Universo appunto. È un documentario bellissimo che va a intervistare i diretti protagonisti di quella vicenda. Imen e i suoi amici e nemici non erano altro che una serie di giocattoli, dei bambolotti per bambini, quale io ero, che hanno conosciuto il loro periodo di massimo fulgore dal 1982 al 1987, cinque anni in cui si trovavano in tutti i negozi di giocattoli in cui i bambini avrebbero dato un arto per avere sempre più personaggi e sempre più costruzioni mirabolanti, come il celeberrimo, il castello di Grayskull, un grandissimo castello apribile che aveva proprio le fattezze di un teschio con la faccia e il portone nel posto della lingua che si abbassava e dentro aveva addirittura i piani con anche tutte le botole. Questo documentario ricrea la storia di questo brand, fatto dalla Mattel, che nasce legata a dei giocattoli, ma che poi è stato declinato immediatamente, grazie alla furbizia dei creatori, in un programma televisivo dei cartoni animati, di cui hanno fatto due serie molto lunghe, che andava in onda negli Stati Uniti nell'orario in cui i bambini tornavano a casa da scuola. Io stesso da bambino guardavo questi cartoni e non mi perdevo una singola puntata. È curioso notare come all'inizio questi bambolotti dovessero essere in qualche modo legati al film Conan il Barbaro, di cui la Mattel si era assicurata i diritti per creare i giocattoli. Il problema è che Conan, quello di John Milius con Arnold Schwarzenegger, non era un prodotto per bambini. C'era sesso, c'era violenza, quindi la Mattel non poteva mettere in commercio qualcosa legato a questo mondo. Pertanto si è ritrovata a dover fare i conti con le necessità e ha creato una sua linea indipendente in cui il protagonista era appunto un barbaro, molto famoso in quegli anni, perché erano gli anni, non dimentichiamolo, dell'illustratore Frank Frazzetta, che era un po' ovunque, aveva creato moltissime immagini, illustrazioni, anche legate ai fumetti e al cinema. E Iman riprendeva quell'immaginario, anche se in chiave futuristica. Iman era un barbaro armato di spada, che però combatteva su un pianeta alternativo, Eternia, in cui si mescolavano magia e scienza contro un cattivo veramente memorabile, che era lo stregone Skeletor. E tutti i diretti interessati che lavoravano alla Mattel e alla costruzione anche immaginifica e narrativa di questo universo si sono ritrovati in una situazione per niente facile, cioè non avevano alle spalle un'opera da cui trarre ispirazione, o comunque un'opera di riferimento, come poteva essere un libro o una serie televisiva o una serie cinematografica ben consolidata, come potrebbe essere l'universo di Star Wars. I creatori di Iman si sono dovuti necessariamente confrontare con il problema di non avere nulla del genere, quindi hanno dovuto creare loro una storia, un po' per volta. Infatti nei primi giocattoli hanno tentato anche di allegare dei mini fumetti delle mini storie che potessero creare quello che si chiama il lore. Lo stesso problema si è verificato poi con la serie di cartoni animati, che però a ben guardare non era così banale come potrebbe sembrare a noi smalizziati uomini del 2020, ormai 2021, sicuramente se lo guardiamo oggi possiamo ridere di molte soluzioni adottate in quegli anni, beh si sta parlando comunque di quasi 40 anni fa, ma allo stesso tempo i creatori di quella serie, in questo documentario, spiegano delle cose veramente singolari. Per esempio non avevo mai ragionato sul fatto che il castello di Grayskull fosse lo scenario che potevano occupare sia i buoni che i cattivi. Era solo una specie di mezzo, non era un luogo buono di per sé stesso, infatti questo si vedeva benissimo nel giocattolo. Dentro il giocattolo aveva addirittura le bottole di Skeletor, però Skeletor non era nel castello di Grayskull, viveva da un'altra parte e tentava di conquistarlo. E allo stesso modo c'erano le due spade di due diversi colori, una di me e una di Skeletor, chi si impossessava delle due spade aveva il potere definitivo. Quindi c'erano questi due principi contrapposti che servivano chiaramente per i bambini per capire qual era la differenza tra bene e male, ma che soprattutto in logica di potere. Lo stesso slogan, io ho il potere, che veniva ripetuto da tutti i bambini che sondavano la spada e l'alzavano verso il cielo, si riferiva proprio a questo. L'intera serie era stata pensata proprio in questa chiave. I bambini che ambivano a avere molto più potere di quello che era dato loro in quanto piccole creature che dovevano ancora crescere. I bambini pensavano di poter diventare qualcuno molto più forte di loro e capivano benissimo da che parte stare, cioè dalla parte dell'eroe E-Man contro il cattivo Skeletor. Ed è anche interessante vedere come nelle pubblicità dell'epoca si diceva che erano giocattoli fatti apposta per stimolare l'immaginazione e la creatività dei figli. Si trattava poi di cartoni molto strani, perché a dispetto del fatto che il protagonista fosse un Erculeo Barbaro, l'uomo più forte dell'universo, circondato da altri armigeri armati di tutto punto, ci fosse la magia, ci fosse la scienza e ci fossero dei nemici spietati, non c'era assolutamente sangue e la spada non veniva mai e poi mai utilizzata. E-Man picchiava i nemici a mani nude, la spada la usava solo per invocare il potere oppure per tagliare funi o per abbattere ostacoli naturali. Questo perché c'erano dei rigidi regolamenti di censura che impedivano di far vedere scene di violenza ai bambini. Chi non ricorda inoltre che alla fine di tutte le puntate c'era la morale, in cui i personaggi a turno apparivano sullo schermo ponendosi direttamente nei confronti degli spettatori, cioè dei bambini, e facevano la spiegazione del messaggio morale che doveva dare quella puntata. A volte era a tema con quello che si era visto nella puntata, altre volte era un consiglio di vita, altre volte non c'entrava niente. Ma tutti i curatori della serie dicono che era il tributo da pagare alla censura per non incappare in altri problemi. Il successo fu tale che addirittura la Mattel diede inizio alla produzione di una spin-off integrata alla serie principale, questa volta con protagonista una donna, She-Ra, che era la controparte femminile di May. Anche lei si trasformava con la spada, non aveva una tigre bardata da guerra, ma aveva un cavallo che diventava un unicorno alato, ed era protagonista di storie in cui in fondo anche lei non era per niente violenta, ma aveva una serie di amici con cui collaborare per poter ripristinare l'ordine e la giustizia del mondo. Poi la linea di giocattoli cominciò a incontrare delle difficoltà, e allora la Mattel pensò di realizzare un film vero e proprio in carne e ossa. Quello che tutti noi conosciamo per essere stato interpretato da Dolph Lundgren nei panni di E-Man e Frank Langella nei panni di Skeletor. Ora Dolph Lundgren noi lo conosciamo perché ha fatto Ivan Drago, soprattutto in Rocky IV. Frank Langella è irriconoscibile in quanto è coperto da chili e chili di protesi e latex sulla faccia. L'alfa e l'omega, morte e risurrezione, e mentre tu morirai, io Skeletor verrò di nuovo al mondo. Si tratta di un film che mescola fantasy e fantascienza. È una space opera, space fantasy, non propriamente riuscita. Purtroppo riflette i problemi di quegli anni. Era il 1987 e le tecnologie cinematografiche non erano quelle di oggi. Non si poteva utilizzare il digitale. Questo significa che gli attori erano coperti da chili di trucco, di protesi, di silicone per fare i personaggi. Dovevano recitare con tutto questo armamentario addosso su un set dove c'erano già 40 gradi. Non era raro che qualcuno svenisse. Inoltre si sono trovati i produttori alle prese con una serie di problemi dovuti al budget. Tanto che il finale con lo scontro tra Iman e Skeletor doveva essere molto più lungo ma è stato ridotto con uno scontro minimo perché ormai non c'erano più soldi. E alcuni dei personaggi più amati della serie animata come Orko e la tigre Battle Cat nel film sono completamente assenti perché non era possibile crearli senza l'animazione digitale. Se lo guardiamo oggi è un film che fa sorridere e che non è affatto riuscito. Però nonostante tutto è sempre bello vedere questi documentari perché si vede come dietro c'è stato comunque un grosso lavoro e che gli stessi attori si sono posti dei problemi. C'è un'intervista a Frank Langella in cui spiega che lui l'ha fatto principalmente per il figlio che era un fan della serie animata anche se poi il figlio non l'ha apprezzato neanche come film. E questo è il principale problema, è un film che non è riuscito a dire niente agli adulti, che non è riuscito a dire niente neanche ai bambini. Però Frank Langella si è posto al problema di creare un cattivo assolutamente credibile e quindi ha messo in mano i dialoghi, si è consultato con lo sceneggiatore, con il regista perché voleva dare spessore al suo personaggio. Addirittura Langella racconta di essersi consultato con Joseph Campbell, l'autore del capolavoro L'eroe dei mille volti, per dare proprio profondità ai suoi dialoghi e non dire sciocchezze. E ancora oggi sembra molto orgoglioso di quello a cui ha dato vita. Da quella volta ci sono stati dei tentativi di rianimare la serie, di ridare lustro ai bambolotti della Mattel, di creare dei nuovi fumetti delle nuove serie televisive, ma nessuno ce l'ha mai fatta. E ancora oggi la dispiacere è tanto per tutti noi cresciuti negli anni Ottanta. Vedere i Meng sarebbe un tuffo al cuore, una nuova edizione al passo con i nostri tempi sarebbe veramente una gradita sorpresa e qualcosa per cui molti pagherebbero di tasca loro. Ne sono convinto.